Folli, siete veramente folli, folli, voi dovete proteggere me, non io voi. Folli, siete veramente folli, folli. Presidente, io, guardi, io voglio dire, io non faccio male a nessuno con la mascherina, sono autodefedante, cioè ho problemi immunitari, io mi tolgo la mascherina e vi dico, io ero in quelle tre regioni, voi state meglio così o io con la mascherina, per me vi consiglio che io possa tenere la mascherina a vostra protezione e se voi foste intelligenti, avreste anche voi la mascherina per proteggere me, voi dovete proteggere me, non io voi.